Sì, in effetti Bernardeschi è un nuovo mercato perché è svincolato e fa gola a diversi club. Pastorello, che è il suo agente, ne ha discusso con Napoli, Inter e il Milan. Il Milan si è chiamato subito fuori, Fabrizio, non è interessato. L'Inter attende degli eventi perché è vero che ha perso Perisic, che domani sosterrà le visite mediche col Tottenham, però sta valutando anche profili più giovani, visto che vorrebbe dare spazio a Gosens, l'ultimo nome sulla lista dell'Inter, è quello di Raum de Lofnan. Il Napoli, invece, ci sta seriamente pensando perché cosa è successo? Poche ore fa, Politano, attraverso il suo agente Giuffredi, ha comunicato al Napoli che intende chiudere la sua esperienza. Vanta ancora un contratto pluriannale, ma vorrebbe lasciare il Napoli perché evidentemente c'è scarso feeling tecnico con Luciano Spalletti. Il Napoli quindi sta agendo d'anticipo, preconizzando il possibile addio di Politano entro il primo settembre, ha bisogno di un esterno. L'offerta ufficiale fatta dal Napoli al Pastorello è questa, due milioni e mezzo per tre anni. Lui punta al momento ad ottenerne tre e mezzo per le prossime quattro stagioni, ma il dialogo tra le parti è avviato. Bene, grazie Ciro. Allora vado subito da Alessandro Antinelli, abbiamo sentito anche Gigio Donnarumma.